Si proverà a trovare una soluzione dopo le tante segnalazioni e le 74 firme raccolte dai residenti di Vicolo Centauro, una piccola strada che però si affaccia su piazza Garibaldi dove da diversi anni vengono segnalate situazioni di degrado in civiltà, dagli schiamazzi all'abbandono di rifiuti, allo scarso controllo, addirittura ai bisogni fisiologici espletati in strada. L'incontro tra un rappresentante dei residenti della via e il sindaco di Casamaggiore Filippo Bongiovanni ha portato frutto venerdì mattina e le parti si ritroveranno presto anche per un giro di vite che passerà dal coinvolgimento, eventualmente in una serata pubblica in Auditorium Santa Croce, pure dei carabinieri, della Polizia Locale e di Casalasca Servizi per quel che concerne il settore rifiuti. Una prima mossa che però sarà a carico dei residenti è il possibile posizionamento di una sbarra di accesso che eviti il parcheggio selvaggio al quale si assiste specialmente nelle ore di punta, mentre per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, spesso raccolto in modo non conforme, il sindaco ha parlato di sanzioni già arrivate anche ad alcune attività e che continueranno ad arrivare. Stesso discorso per quanto concerne altre attività che pur indicando un orario di chiusura, spesso vanno oltre creando la possibilità di accrocchi di giovani che spesso a tarda ora disturbano poi la pubblica quiete. Un'altra mossa è quella di piazzare alcune fototrappole alle finestre delle abitazioni che consentano di individuare chiunque non si comporti in modo consono. Dopo l'incontro nell'ufficio del sindaco venerdì lo stesso primo cittadino ha incontrato alcune attività e alcuni residenti della zona di via Centauro e toccato con mano il disagio manifestato dagli stessi residenti, passando anche dagli imbrattamenti di un paio di box auto e del muro di un'abitazione peraltro da poco tinteggiata.